buongiorno da obiettivo news oggi 13 febbraio e sante fosca e maura oggi si celebra galetta is day l'amicizia tra donne è una ricorrenza molto diffusa negli stati uniti infatti il nome nasce dall'unione di gal pal amica donna in slang e valentine's day è un'occasione per omaggiare la sorrellanza una festa per donne che sostengono incoraggiando altre donne soprattutto le proprie migliori amiche oggi anche la giornata nazionale delle frittelle e dei carciofi e la giornata internazionale dei tortellini tra i nati di oggi nominiamo robbie williams 1974 e peter gabriel 1950 tra le scomparse ricordiamo invece richard wagner 1883 grazie